Per quanto concerne la partita con il castro De Volci, a fine partita c'è il rammarico di aver lasciato due punti su un campo difficile, ma comunque era uno scontro diretto. Siamo stati bravi a interpretare la partita, un'ottima prestazione, ma sicuramente abbiamo sprecato troppo nel finale e da qui nasce il nostro rammarico. Per la cronaca della partita, pronti e via, siamo stati subito bravi ad andare in mandaggio con Bangura al terzo minuto del primo tempo. Meno bravi cinque minuti dopo, quando è stato servito un'ottima palla a Chacon, all'altezza del rigore, leggermente defilato, ma spedito debolmente tra le braccia del portiere. C'è stata la loro reazione, noi l'abbiamo controllato abbastanza bene, senza troppi affanni. Il primo tempo si è concluso a zero per noi, senza grosse occasioni da una parte e dall'altra. Nella ripresa loro hanno alzato il baricentro, hanno cambiato anche il modulo tattico e ci hanno sicuramente creato qualche problema in più. Tra le variazioni che hanno creato, sono stati bravi con un giro palla a pizzicarci e a farci l'uno pari, su un bel rossi assist dei giurini per il nuovo incitti appena entrato. Poi è stato bravo il nostro portiere, su una staffilata dal limite, ha salvato il risultato e da lì niente, loro sono un po' scesi a livello fisico. Io ho ricorso a dei campi necessari e il primo cambio, soprattutto la Rocca per Quinto Simone ha dato i suoi frutti. Abbiamo avuto più equilibrio al centrocampo, più geometria e la squadra ha ricominciato a giocare. Poi con il cambio del doppio cambio, Fusto-Lemballò, per Chagone-Difazio la squadra ha preso anche velocità. E negli ultimi 15 minuti, dal 35esimo al 45esimo, più il recupero, abbiamo creato veramente tanto. Cinque occasioni da gol clamorose, con Ballò per due volte e Quinto a tu per tu col portiere. Nelle tre circostanze il portiere loro è stato bravo a respingere, anche con un pizzico di fortuna. Per due volte invece Bancura e Fussolo non hanno calciato d'ottima posizione dall'interno della rietta piccola, hanno perso l'attimo. E ancora un paio di occasioni, Ballò non ha centrato specchio sulla porta dopo che si era immolato da solo. Resta il rammatico, vedendo soprattutto il finale, potevamo veramente portare a casa due punti in più e recuperare un po' di terreno aperto. Però tutto sommato va bene, il pareggio comunque ci fa muovere la classifica e ci fa osservare, adesso ci fa aspettare con più fiducia il turno di riposo, ci fa osservare e vedere cosa stanno a fare gli avversari domenica prossima. Poi fra 15 giorni avremo uno scontro diretto in casa al Costa Latina e lì veramente ci giochiamo il tutto per tutto. Poi fra 15 giorni avremo uno scontro diretto in casa al Costa Latina e lì veramente ci giochiamo il tutto. Poi fra 15 giorni avremo uno scontro diretto in casa al Costa Latina e lì veramente ci giochiamo il tutto. Poi fra 15 giorni avremo uno scontro diretto in casa.